Ok, bentornati in questo nuovo video, video che è un po' improvvisato per una notizia che ho avuto modo di confermare che non sapevo, ammetto che non so tutto, come tutti e quindi quando scopro qualcosa di nuovo cerco prima una conferma e poi se la ritengo rilevante ve la condivido e questa cosa qui credo che farà risparmiare soldi a me e anche a molti di voi perché su spunto di un utente che tra poco vedremo che commento ha scritto che è svizzerotto che ringrazio e abbraccio per questo spunto qua perché grazie a te carissimo molte persone risparmieranno dei soldi, è venuto fuori un po' un problemino con le azioni americane ho dimenticato anche di accendere la luce scusate quindi mi vedete molto scuro, ecco meglio, è venuto fuori un problemino con quelle azioni americane che però sono quotate su Borsa Italiana. Ora partiamo dall'inizio, voi tutti sapete cos'è la withholding tax, giusto? Per chi non lo sapesse la withholding tax è quella tassa che un paese applica sui dividendi che le società che hanno sede legale in quel paese pagano verso investitori esteri, quindi facciamo l'esempio, se io sono azionista di Google che ha sede legale negli Stati Uniti quindi quando Google mi paga un dividendo devo andare a pagare le imposte sia agli Stati Uniti con la withholding tax sia all'Italia che vuole il suo 26% Ora, a schermo vi ho messo una tabellina delle withholding tax dei paesi principali come potete vedere ce ne sono alcune più punitive di altre le withholding tax sono di fatto una doppia imposizione perché lo stesso provento viene tassato da due soggetti diversi Ora, per limitare l'incidenza negativa della withholding tax i paesi si possono accordare l'Italia ha un accordo con gli Stati Uniti e la withholding tax passa da un 30% a un 15% che vedete nella tabellina Qual è il tema del video? Il tema di questo video è che normalmente la withholding tax corretta statunitense viene applicata di default cioè se io compro delle azioni di JP Morgan sul Nise ecco che nel momento in cui JPM mi paga un dividendo automaticamente mi viene applicato il 15% americano e non il 30% pieno normalmente è così è così se io quell'azione americana la compro su una borsa americana viene fuori il commento di Svizzerotto che ora vi faccio vedere Svizzerotto cosa ci dice? ci dice che a lui risulta una cosa strana lui ha delle azioni con una banca italiana azioni statunitensi comprate però su borsa italiana e nota che gli vengono applicate più aliquote sostiene che gli viene applicato un 19% più un 15% prima e poi il 26% italiano ora la questione poi lui la va a delineare e contatta la banca in questione che gli chiarisce che praticamente la withholding tax americana da monte titoli viene applicata a pieno al 30% e non al 15% che cosa significa? chi è monte titoli? monte titoli è la depositaria del gruppo Euronext che si occupa di fare da custodian per i titoli cambiati su borsa italiana quindi a Milano cosa succede? succede che se io vado a comprare le azioni di una società americana ma le compro su borsa italiana queste vengono ottenute e depositate da monte titoli ora monte titoli sostanzialmente non prevede l'automatica applicazione dell'aliquota scontata del 15% ma dice cosa? che ti applica al massimo del 30% americano poi arriva al 26% italiano solo dopo se vuoi tramite apposito procedimento puoi chiedere rimborso per la differenza e quindi puoi riottenere quel 15% di tassazione americana in più che hai pagato il problema è che questa procedura è una procedura che quasi sempre anzi sempre le banche fanno pagare e non costa 10 euro costa 100, 150, 200 o più euro morale della favola motivo del video qual è? è cercare di capire se effettivamente è così e confermo quanto ha detto svizzerotto ci tengo a sottolineare che purtroppo io ho anche fatto un'attività di ricerca cercando un testo normativo che mi confermasse questa operatività di monte titoli e non ho trovato nulla non ho trovato alcun riferimento a questo quindi io comunque ho avuto conferma di ciò perché io avevo delle azioni di Google di Alphabet che ho comprato su Borsa Italiana e la scorsa settimana ho ricevuto il dividendo che queste azioni hanno pagato per chi non lo sapesse Google, cioè Alphabet da ormai 6 mesi paga un dividendo trimestrale di circa 20 centesimi di dollaro ora come potete vedere a schermo io avevo 10 azioni già prontamente liquidate e ho ricevuto 1,26 euro in totale di controvalore lordo di dividendo facciamo un calcolo se voi andate a vedere lo scambio euro-dollaro al 16 settembre cioè la data di pagamento al dividendo era più o meno equivalente a quello che vedete già a schermo quindi possiamo ritenere affidabile utilizzare questo calcolatore di Google per verificare appunto i nostri conti 20 centesimi di dollaro al 16 settembre valevano circa 18 centesimi di euro ora se fate ancora due conti per arrivare però ai 12,6 centesimi scusate qui vedete l'importo unitario agli 0,1257 euro da uno 0,18 di partenza calcolate la differenza e circa fa proprio il 30% quindi che cosa vuol dire? vuol dire che il commento di Svizzerotto è confermato ossia se voi comprate azioni americane su borsa italiana preparatevi perché avete un'incidenza dei dividendi maggiore rispetto a quella che avreste comprando gli stessi titoli su una borsa americana vi porto l'esempio del belgio che ha una withholding tax al 30% se voi tenete i vostri titoli le vostre azioni di società americane che avete acquistato su borsa italiana e le tenete così avrete un'incidenza su ogni dividendo del 48,2% ok? mentre se voi sistemate questa cosa e quindi in base alla vostra due diligence che dovete condurre in autonomia mi raccomando andate a comprare invece le azioni americane effettivamente su borse americane come la New York Stock Exchange oppure il Nasdaq ecco che l'incidenza cala da un 48,2% a un 37,1% ora so per certo che ci sono persone con portafogli molto importanti che guardano questi video quindi credo che questa cosa qui vi farà risparmiare non pochi soldi io personalmente quelle azioni di Google che avevo su Bossa Italiana le ho subito spostate le ho vendute e le ho ricomprate nelle stesse quantità sul Nasdaq quindi un caloroso grazie a Svizzerotto che si becca il premio di spettatore e utente e iscritto del mese perché ha fatto risparmiare a me e farà risparmiare anche a voi diversi soldi grazie Svizzerotto questo video è stato molto breve come vedete è stato molto diverso dal solito è stato improvvisato avete perfino casino a schermo le mie cuffie il ventilatorino ma ci tenevo che fosse spontaneo io vi ringrazio come sempre per avermi seguiti noi ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti